Volano gli stracci in maggioranza, chieti con l'approvazione del bilancio saltata per la mancanza del numero legale con cinque consiglieri di Forza Italia che continuano a puntare i piedi. Il sindaco Umberto Di Primio resta però fiducioso facendo comunque dei distinguo. Quello che imballo è il futuro della città, sono i 37 milioni di lavori che potremmo perdere se non dovessimo approvare il bilancio. Sono le tante cose fatte che rischiamo di buttare a mare soltanto per delle beghe di bassissimo capodaggio dove non c'è nulla di politico, dove non c'è nulla di amministrativo e dove ho ribadito più volte. Abbiamo un bilancio approvato dalle collegie revisori che prevede investimenti per la città. Abbiamo una situazione su tiate servizi, lo dico in modo molto chiaro, spero il più chiaro possibile, non c'è nessun problema di assunzione ai tiate servizi. Lei smentisce i rumors che dicono che potrebbe passare con l'assessore di Biase a Fratelli d'Italia? Io non passo da nessuna parte, io sono ancora un iscritto di Forza Italia, sono un iscritto di Forza Italia, sospesosi perché c'è stata una evidente incapacità dei vertici di Forza Italia di affrontare questo problema e temo che a fronte di una incapacità di rendersi conto di quello che sta succedendo si possa verificare una Teramo, si possa verificare una Vezzano, insomma si possono verificare quelle situazioni che abbiamo visto in questi mesi, che hanno visto il centro-destra perdere importanti centri soltanto perché non si è intervenuti a sedare degli interessi che erano di parte e non della comunità, della collettività, della generalità delle distanze che vengono dai cittadini. Nodo del contendere tra Forza Italia ed il primo cittadino è ancora una volta la testa dell'assessore al commercio Carla Di Biase. I consiglieri del gruppo forzista ne chiedono da settimane le dimissioni, sostenendo che l'esponente della giunta non avrebbe operato adeguatamente per il bene della città. La diretta interessata ribadisce che non si dimetterà mai. Non mi dimetterei per un motivo molto semplice, non mi è stato contestato nulla a livello politico e amministrativo, non mi è stato mai chiesto un incontro, non sono solita a secondare capricci, mi dimetterei se in un tavolo politico ci fossero delle gravi motivazioni che mi spingerebbero a farlo. Ma rivendico una cosa, un'onestà morale e intellettuale, nessun interesse privato, personale e familiare all'interno dell'amministrazione comunale. Io non sono una persona di sport, ma sono la figlia di una persona che ha dato tanto allo sport, ma soprattutto mi ha insegnato di alzarmi la mattina e andare a lavorare. Non ho mai chiesto niente a nessuno, ho fatto questo per quattro anni. E' pronta a rimettere le mie deleghe nelle mani del sindaco, non a dimettermi sotto ricatto di qualcuno.